Fra i tanti ottimi giocatori che ci sono in campo domani sera l'è avuto anche il privilegio particolare di stare allenando adesso Carasteria e aver allenato a lungo anche Salah. Due esterni diversi per caratteristiche, però forse da un punto di vista di quello che danno alla squadra si somigliano un po' tatticamente, cioè quelli che possono sia saltare l'uomo che creare situazioni diverse, in maniera appunto diversa perché sono diversi, c'è una similitudine secondo lei? Sì, si è dato un po' anche la risposta, loro sono due calciatori che in modi diversi però riescono a fare queste giocate geniali, perché poi di questo si parla, gli puoi giocare qualsiasi palla semplice tirata addosso e loro poi la riescono a trasformare in occasione per la squadra perché hanno questa facilità di puntare l'avversario, di saltare l'avversario, questa facilità di accarezzare la palla mentre vanno a 2000 orari a fare un ribaltamento d'azione. Tutte e due sono molto convinti delle loro potenzialità nell'essere così semplici, così bravi ragazzi, nell'essere così disponibili ad aiutare sempre tutti ed effettivamente sono due che ci possono mettere del suo domani sera. Repubblica Eccomi buonasera, volevo chiederle un commento sui complimenti di Klopp, che ha detto che Napoli sta giocando il miglior calcio d'Europa e che è un candidato per la finale. Allora, mi sembra di aver letto che lui ha detto anche che non pensano a vincere 4-0, è vero che io penso che l'abbia detto seriamente, se l'ha detto seriamente che non può vincere 4-0, se vuole ne parliamo insomma. E poi però i complimenti eccessivi a volte servono a metterti lassù per poi poterne ascoltare il tonfo, mentre quando poi ci sono delle critiche, se fatte in maniera corretta, ci si trova sempre gli spunti per andare dentro e per migliorare, per vedere se effettivamente quello che è la critica è corretto oppure no. Se invece l'ho detto in maniera un po' differente, intanto lui ha fatto le ultime due finali di Champions, per cui è il più bravo di tutti in assoluto, lui e la sua squadra. E poi si accorgerà quando allenerà il Napoli che c'è nessuno e fesso. Mi sembra chiaro da questa risposta che si aspetta, quindi ovviamente un Liverpool battagliero come sempre e che proverà a fare di tutto per portare a casa il risultato. Napoli che però si presenta a questo impegno in grande condizione, l'ha confermato anche nell'ultimo match di campionato contro il Sassuolo. Ecco, ancora una volta li ribadiamo alla stessa domanda. Che si aspetta dalla sua squadra nel match di domani? Un'ennesima prova, un'ennesima risposta insomma che si attende dalla sua squadra e a livello di titolari, che insomma le dicevi che sono tutti titolari, domani cosa dovremmo aspettarci come novità di titolari rispetto all'ultima formazione? Allora, intanto il Liverpool è una squadra in piena salute perché non bisogna farsi ingannare da quello che è stato il risultato anche dell'ultima partita perché io l'ho vista tutta e bene e ho visto anche quelle precedenti, ultime, io il Liverpool lo trovo in perfetta condizione, lo trovo il Liverpool di sempre. Poi è chiaro che se sbagliano 10 gol davanti al portiere come è avvenuto nell'ultima partita e per casualità gli gira storto tutti gli episodi allora può andare ad essere messo in discussione un risultato. Però dai miei calciatori domani sera o perlomeno io ai miei calciatori permetterò e sarò disponibile affinché perdano ogni pallone. Qualsiasi pallone poi gli capiterà di perdere ma non sarò permissivo sul fatto di non giocare i palloni che gli capiteranno dei piedi. Loro dovranno fare la partita in maniera corretta, in maniera tranquilla da un punto di vista di intenzioni, di potersi giocare il risultato e poi naturalmente ci saranno dei momenti che noi dovremo essere bravi a sopportare quella che sarà la loro qualità e la loro velocità nel proporre calcio. Anche questo fatto di andare da una parte all'altra dove ti portano a sbandare però poi ogni qualvolta sarà riconquistata la palla voglio vedere le stesse intenzioni perché questo sarà il nostro possibile biglietto per uscire da questa partita in maniera corretta. Viva il Brasile. In inglese, sorry. Thank you. A lot ha detto la differenza del budget di money tra gli inglesi e la maggioranza della resta dell'Europa. È un'altra piaccia di piacere vedere il Napoli giocare così bene anche contro i club riusciti in Europa. Sì, è chiaro che avendo possibilità di andare a prendere i migliori e possibilità di spendere diventa più facile. Però poi se lavori in maniera corretta, se sei organizzato in maniera corretta ci sono altre strade da seguire, ci sono altre possibilità da portare a casa come ha fatto quest'anno il Napoli di accreditarsi dei calciatori che poi possono fare la differenza o possono diventare i top player come quelli più pagati. Ecco, noi siamo nelle condizioni ora di poter crescere ulteriormente però sono stati presi dei calciatori di qualità all'inizio dalla società. Prego. Sì. Buonasera, mister. Also in inglese. Sorry. Irving Lozano is playing maybe, or he is in his best moment so far since he arrived to Italy. What is the reason of this moment of Lozano? Because with the other trainers he didn't show what he is showing right now. Allora, Lozano prima di tutto se sta esprimendo un buon calcio il merito è delle qualità e del carattere che lui ha perché lui è un buon ragazzo e un calciatore top. però poi la differenza la può fare quello che diceva prima Mario Rui che sono una squadra che si trovano a perfezione fra di loro dove tutti aiutano tutti e dove interpretano il calcio tutti allo stesso modo vanno tutti nella stessa direzione e questo permette di poter dare qualcosa di più di ogni livello individuale che si ha a disposizione. Buongiorno mister Luca De Capitani una domanda doppia. la prima è se sinceramente se l'aspettava ci credeva o ci sperava di arrivare due mesi fa voglio dire di arrivare oggi a giocarsi la prima il primo posto nel girone già qualificato con tutte vittorie e la seconda è ai giornalisti piace molto fare dei paragoni c'è qualcosa del gegenpass del Liverpool di Klopp nel suo Napoli? Allora è chiaro che in quel momento là se me l'avesse chiesto pur usando tutta la positività possibile sarebbe stata dura pensare di venire a giocare qui in un girone come abbiamo avuto noi essendo davanti ai numero uno del mondo però poi questo significa che a lavorare in un certo modo c'è sempre la possibilità di trovare soluzioni anche a dei anche a dei temi difficili come può essere quello del calcio ecco non lo so se noi gli assomigliamo al Liverpool sicuramente vorremmo fare questo perché allenatori come me o quando si parla di calcio a volte a Coverciano spesso vengono portati davanti le qualità vengono portati davanti le giocate le squadre come il Liverpool come il Manchester City come il Chelsea perché qui ci sono i calciatori meglio del mondo a giocare questo campionato e tutti noi siamo venuti a prenderci delle notizie e delle giocate da riproporre poi nelle proprie squadre ecco canale 21 sì salve Spalletti visto che tanti complimenti possono far adagiare proviamo a individuare allora quella critica per caricare il gruppo e poi mi permetta una domanda indotta anche se un titolo già ce l'ha dato volete il primo posto a noi si accettano anche i complimenti quando sono fatti sinceri come dicevo prima però i complimenti non fanno risultati non fanno classifica e quindi sappiamo che domani sera sarà durissima e dovremmo riuscire ad essere quelli di sempre o quelli che abbiamo fatto la partita dell'andata il che è quasi impossibile poi per quanto riguarda la voglia di fare o la volontà di fare il risultato domani sera ma cambia totalmente arrivare i primi ad arrivare i secondi e per cui mi sembra un po' superfluo rispondere se vogliamo ecco perché perché siamo venuti qua con le intenzioni più sane possibile poi c'è di mezzo un palcoscenico di questo genere contro quegli attori lì che dovremmo dimostrare di essere alla loro altezza ultima spazio a Napoli mi piacerebbe sapere cosa ha frenato nella scorsa stagione l'utilizzo del 433 di applicazione quello che viene applicato quest'anno con dei movimenti diversi perché a un certo punto è stato testato poi poi un po' frenato era motivo degli attaccanti a disposizione dei centrocampisti della condizione degli interpreti cosa è cambiato dallo scorso anno a quest'anno? lei torna indietro ci fa piacere a tutti ma probabilmente ne deve parlare con quelli che volevano il 4-2-3-1 dei calciatori che volevano far giocare in quel momento lì e poi noi avevamo a disposizione grosso modo una rosa come abbiamo quest'anno da un punto di vista di qualità di calciatori e anche quest'anno giocheremo il 4-2-3-1 come l'anno scorso e lasceremo da parte per qualche partita il 4-3-3 dipenderà dal risultato dallo svolgimento della partita da quello che sarà il nostro avversario dipenderà dal momento dentro la partita che noi poi andremo a fare scelte diverse per mettere in difficoltà l'avversario ma non c'è una soluzione unica per tutte le situazioni ce ne sono più di una allora bisognerà andare a vedere qual è la migliore a testarle e a rendersi conto mettendole in pratica nel migliore dei modi tutte grazie a tutti grazie Grazie.